ciao a tutti da Vittorio Cassinesi benvenuti ad una nuova puntata di disco show inizieremo a farvi sentire un po di vinili quelli che sono i promomix un po di tutto insomma cercheremo di farvene ascoltare in una mezz'oretta quello che riusciamo la maggior parte nel frattempo vi ricordo che se avete dei dischi donatele a me io ve li custodirò per voi ve li farò ascoltare faremo anche in modo che tutto quello che noi ascoltiamo oggi sarà poi ovviamente caricato su youtube su twitter su facebook su instagram su tutti i canali social e su tutto ciò che ruota sul mondo del web allora per info e contatti ricordo 347 621 5614 per evitare di violare il copyright voglio farvi ascoltare questi dischi sì ma per una piccola tranche giusto per evitare di dare come si dice l'ammazzata all'ascolto totale e poi ovviamente insomma vi invito come sempre ad ascoltare questa puntata del disco show perché noi oggi ascolteremo solo esclusivamente dischi in vinile allora abbiamo iniziato con I Can Dance il pezzo dei Genesis ascoltate la voce di Phil Collins e con questo vi auguro buon ascolto buon ascolto buon ascolto i can dance versione sex mix questo è il disco mix mixage ci faceva top import mixage ci mettevano delle belle canzoni si mixavano tra di loro adesso li facciamo ascoltare Genesis adesso arrivano signore e signori inner city yeah what you gonna do with my love and pezzo fantastico siamo nel 1989 che anni bellissimi buon ascolto 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 adesso arriva King Wilds questo è It's Here Grazie a tutti 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 Grazie a tutti